avviate campagne, ribadisco, denigratorie nei confronti dei lavoratori. Il punto è che in questo Paese, quando bisogna individuare le responsabilità, lo si fa sempre sulla pelle dei lavoratori e della democrazia. Abbiamo inserito l'apertura dei luoghi della cultura tra i servizi essenziali. Francamente non è la stessa cosa entrare nel Colosseo o entrare per doversi curare in un ospedale, ma allora, se si tratta di servizi essenziali, dovrebbe essere innanzitutto essenziale investire risorse corpose, potenziare gli organici invece di tagliarli, pagare i lavoratori con puntualità, garantire dei servizi di qualità. I custodi del Colosseo, solo i custodi del Colosseo sono 27, sono chiamati ad accogliere migliaia di turisti perché non si assume il ministro nuovo personale. Non abbiamo sentito traccia di tutto questo, nulla sulle sue responsabilità e sull'urgenza, questa sì è un'urgenza, non quel decreto di politiche culturali sistemiche. Ancora una volta si attaccano solo i diritti dei lavoratori. Se state pensando di attaccare anche il diritto di sciopero in questo Paese, troverete un'opposizione ferma non soltanto qui dentro, ma soprattutto fuori. Passiamo all'interrogazione 3.1719, onorevole Irampelli ed altri, sulle problematiche relative al contratto di concessione della bigliettazione dei servizi di visita presso il Colosseo. Onorevole Irampelli, per un minuto. Prego. Grazie Presidente. Ministro Franceschini, noi vorremmo guardare la questione di cui si è trattato fino adesso e che è balzata alla cronaca dei giornali, del circuito mediatico pochi giorni fa attraverso la nota vicenda dell'Assemblea sindacale. Vorremmo però guardare da un altro punto di vista il punto di vista della concessione che è stata data, se non va derrato, mi corregga ovviamente, nel 1997 a fronte dell'unica gara con 14 anni, 15 anni di proroghe, quindi siamo esattamente nella fattispecie della cooperativa Buzzi, tanto per fare dei paragoni, diciamo così, imminenti, recenti. Io penso che qualcuno ci dovrebbe spiegare la ragione per la quale non si è mai proceduto per dare in concessione a un privato una parte importante. Pensiamo che il Colosseo con il Palatino, eccetera, fanno come lei mi insegna, oltre 50 milioni di incassi e di questi 50 milioni di incassi quasi il 70% viene incamerato da questa associazione temporanea di impresa che vive da 14 anni su proroghe, quindi su assenza di gare e su assenza di trasparenza, nonostante quanto è stato eccepito dalla Corte dei Conti, che ci ha anche detto che in buona sostanza il contratto è invalido perché viola tutte le norme sulla concorrenza sabite dall'Unione Europea. Grazie. Ministro della Cultura, onorevole Franceschini. Prego. Sì, ringrazio l'onorevole Rampelli perché mi dà modo, rispondendo alla sua interrogazione, di dire quanto stiamo facendo. È vero quello che ha ricordato, non i numeri che ha detto, ma quello che ha ricordato rispetto al fatto che al Colosseo, come in molti altri luoghi della cultura, sia in presenza di servizi dati ai concessionari che sono in un regime di proroga da molto tempo. È esattamente la situazione che abbiamo trovato all'inizio di questa esperienza di Governo. Abbiamo valutato che fosse necessario mettere trasparenza nelle gare, maggiore efficienza nelle gare e per questo abbiamo siglato un accordo con la Consip, che è la società pubblica che gestisce le gare per i servizi per la pubblica amministrazione, che per una parte...